Siamo quasi a 100.000 iscritti su questo canale raga La cosa folle è che più del 70% della gente che guarda i video non è iscritta Non tergiversare, clicca il tasto iscriviti, dobbiamo arrivare a 100.000 entro fine anno Sarà difficile ma ce la dobbiamo fare Dai raga ci faremo un po' stupire, ne facciamo un po' di trucchi Grazie mille per gli abbonati Quando noi ci rompiamo, quando voi li rompete, quando li si rompe tutto Continuiamo, facciamo domande sempre come al solito Prendi le carte? Tutte? Sì sì, non voglio fare niente, ho solo una previsione Posso mischiare? Qui Mi schio, mi schio Ma ecco, mi schio in questo modo qua che ti spaccherà tutte le carte, mi spiace Ma non fa niente Ok No, vedo che sto lasciando delicatamente Scrivo una roba sul telefono Sono mie Cosa vuol dire? Una cosa sul telefono tua Cioè che deve rimanere lì o che devo leggere? Oh, lascio, lascio Una previsione Esatto Ok Ora Ti farò fare una scelta inconsapevole Ok Ok Quindi Quindi io farò il bastardo No, ma in realtà non saprai neanche di starla facendo Inizia a prendere e inizia a servire un po' di carte sul tavolo Una sopra l'altra Proprio, aspetta eh Anche da sotto, da in mezzo, anche a gruppi Ok Quando sei contento ti fermi Stop Ok Ok, queste qua che non ne hai messo non le usiamo Queste qua Inizia a fare due mazzetti La prima qua, la seconda qua E così via In ordine o posso andare Cioè devono essere E una qua, una qua, una qua, poi puoi fare una qua, una qua non è importante Ok Ora Ricapitolo Hai preso le carte Hai servito carte da sopra, da sotto, da in mezzo, a gruppetti Ti sei fermato quando volevi L'hai servito in due mazzetti Due di qua, una di là come hai voluto tu Sì Eh Siamo arrivati su due carte Perché ti ho detto due mazzetti Perché qui ho fatto una previsione, no? Questa mia previsione Ok Altre carte nella scatola Ok E questa carta ovviamente ha un seme e un valore Eh Scegli seme o valore Eh Seme Seme Quindi questo rappresenterà il seme, fiori E questa rappresenterà il valore Otto Ok Quindi mettendoli insieme viene fuori Otto Non è vero Ok Se questa carta fosse l'otto di fiori No Come cazzo è possibile Sarebbe Cioè Perché la controlli No Raga L'otto di fiori Dio povero Ma come è possibile? Zio Questo è proprio impossibile Cioè qua ci sono Allora Avete ragione Comunque adesso svuotiamo il tavolo Ah sì Così vedete Una roba davanti Dai Eh Raga Io sono andato a random Cioè È impossibile Come cazzo hai fatto Veramente Cioè Che cazzo di mentalismo Io non ho toccato niente Perché allora Ad inizio live Perché si fosse connesso ora Ci ha rivelato che Dal dorso Della Della carta No Si può Capire Secondo uno schema Che tipo di carta è Sono sistemata Però in questo caso La carta era già lì Sì sì certo Quindi Porco zio Non ho parole Bravo bravo Eh sì Svuotiamo un tavolo Dai Posso partire una domanda Io tengo Quanto è che costa il tuo corso Con incluse le carte Tutto Cazzo non mi ricordo 49 90 Minchia Così poco È un corso di cartomagia base Quindi Ma è incluso Incluso le carte Sì Che ti arriva a casa Tutto 49 euro Si Porco zio Ma quanto costa Le carte 15 euro Cioè delle carte normali Costano 15 euro Delle carte normali Tipo le bicycle Quelle normali Si costeranno 4 euro Però queste qua Comunque sono Sì grazie mille Sono segnate Hanno i tre giochi dentro Con la spiegazione Hanno delle carte Truccate apposta Per fare i giochi Cazzo ma io pensavo Che mi dice Anche io Anche io Oh raga Se nessuno va Con questo cazzo Di corso Costa 39 90 E il corso Con le carte 49 90 Con le carte